ciao ragazzi stiamo tentando di cambiare lo sfondo per giuro che poi ti do fuoco perché stiamo per presentarvi un gioco che è in anteprima cerchiamo di trovare no si ma non la stiamo trovando e abbiamo Van Nijmen però Lego Star Wars è sempre un gioco della Lego però non lo troviamo vediamo come ci sta il Lego molto carino ma non è Lego molto ben dettagli senti senti partiamo no no ma io parto semplicemente senza vedere un cazzo eccoci qua raga presentiamo il gioco ok abbiamo ecco come potete vedere è una demo qua c'è Simone però Jacopo incondisciti nello schermo ok no ma si è posto questo è posto no no avevo paura che Jacopo ma Jacopo no la vera di il resto lo si deve è quello il problema vabbè riduci versione di il tuo gioco va sotto Jacopo introduci un po' il mondo della Lego dai sono mattocini con cui giocare ma tu hai capito io dovrei fare la radio con una persona così ma il tuo mondo cioè il tuo mondo dovresti parlare un po' no no cosa le vuoi dire i tassi belli vabbè Simone dai aiutami te allora facciamo leggere il nome del gioco Lego 2K Drive il nuovo gioco della Lego fatto dalla 2K ok ok bene che riprende un po' Lego Racer esatto la possibilità di giocare allora io sono un ignorante nel mondo della Lego video di carro no no ti posso dire che sono no non voglio recuperare il dato locale no 17 agosto fino alle 3 un quarto hai giocato fai questo no ma perché mi prendi salvataggio voglio fare nuova partita ma che te frega abbiamo un po' provato guarda dai ma diamo gioca se c'è una nuova partita dai voglio vedere se c'è una nuova partita comunque io sono un ignorante l'altro provato comunque l'altra sera abbiamo detto proviamolo figo effettivamente è figo perché ma te mi sposto più in là si mi sposta più in qua sembra veramente bello sfretto di Messica include un po' il gioco di per sé di macchine classico ma prende un po' di spunti nei vari giochi di macchine ricorda molto che inizialmente guarda se non ti do un pugno per rispetto delle persone che seguono tra me ah faccio una nuova partita tecnica collega l'altro controller intanto che io parlo non tu mi mi piu contro me si si no 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 volevo no io bo ecco 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 ma se non gli fai il big 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 il big big ora lo faccio il big big si porta no devo devo sincronizzarlo si e come si fa ah lo no 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 come si fa sincronizzato quello di devi schiacciare il tastino no aspetta c'ho qui c'ho qua c'ho il cavo perfetto oh perfetto a parte i momenti tecnici che avremo sempre con maria gioco abbraccio pizzi no non intra magari è cosa sintonizzo può sincronizzare rauti una palla no fai valentava sai fatelo voi perché avete le palle ma che sto cos'è questo tasto no è il nuovo nuovo là ok consenti ma perché non lo fa attraverso pc no ci sei ti ha preso ecco ti ho preso, bravo ma io voglio stai fermo io come gioco le cose mi ricorda un po' il classico come Mario Kart quindi un gioco macchine di guida ma anche molto arcade ma ricorda anche un po' Sonic o Star Racing Transformers che per chi non lo conosce era un po' una novità perché oltre che guidare avevi la trasformazione delle macchine ma fatti cazzi tu sto parlando io ma che mi ha riducato sei ma scusa un attimo quindi tu fai la gara e le ambientazioni cambiano quindi ti cambia la macchina cioè se vai in acqua mi piace guardate che macchine ho creato ieri l'altra parte forse molto più diversa qua siamo nel mondo della storia se è una cosa figa se faccio distruggere vedrai che guadagni si distrutto un po' si distruggi qualcosa sei veramente una pippa e distruggi e sono più brava a creare ma sono bravi guarda che crea guarda io non sono brava a distruggere ma guarda ma posso guarda che bravo a creare guarda che bravo a creare guarda che bravo guarda che bravo guarda un attimo eh ma distruggi tu che caso no no ne dà avere niente cioè distruggi chieni le punticini le cose poi c'è il turbo boom fai queste cose coattive fai un sacco di cose crea che sta merda vedi la macchina si è diventata la macchina vabbè comunque molto bella comunque come in Forza Horizon puoi fare un po' di cose in questa mappa qua gigante e la cosa super divertente è che poi andate appunto a creare una macchina degna si 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 no ma non avevamo saputo fino a un che dai ma sui soldi che la leggerà mai visto nel mondo si chiama e però si se non è un se è morto su un po' di carico la grazia del sacerdote ma forse un po' per continuare a guidare ma comunque il conflitto ma è che mi spiega verso la cosa divertente a parte che ci sono tutte le ferie di manegra il tuo cuore si può aiutare perché c'era quella della premio a strutturare nonostante ma l'idea castro usato che ora non la trovo vabbè vabbè a cambiare macchina le ghiere vabbè ma lui guarda qui lì c'è salvatore che comprovi segnere destra e sinistra le vande maxtra lo cazzo adesso dove quei ragazzi davanti un attimo vedi un attimo vuoi far vedere che ti sorge le cose sono cinque quindi se li costruisco comunque quello è io volevo fare un po' di storia ok quindi questo la cosa divertente è che puoi coerostruire la orostruire la tua magra è che l'optane visto l'ho trovato posso ce lo vedo dagli quindi ci sono tutti riferimento totalmente mantiene e tutti i due avete giocato l'ultimo nego star wars quantomeno l'avete trovato tutte quasi l'intero un po' quella parte cazzona della lego c'è appunto di divertirsi non solo per fare emissioni di quello che hai da fare le gare ma no vabbè diventi che hai di costruire ah già anche la lavamacchina se posso essere critico non mi piace la saga degli skywalker ma infatti questa è una domanda che fa bene ma scusa se no perché adesso cosa c'entra la saga degli skywalker no 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 perché l'ultimo gioco che è aria perché ha fatto un male il gioco il gioco non è finita la saga degli skywalker lo so vabbè si 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 mi mi inseris se non ma io non sono un ingegner se ti mette un tubo da scappamenti in gola un'altra sc smiles lì ci va beh mi mi la tua posizione scusa piccina ancora bryan con sha sorta una un attimo trappola aggiunta ohhh il maggior numero possibile di la cosa figa è che se tu schiacci questo esattamente x fai una super sterzata ah tu sei già andato ok ah tutti i funghi oh i funghi sono quelli rossi eh ma la curva rapida faccio farlo non ha detto proprio così ah grazie un attimo mi ci fai andare a prendere dai 75 secondi ah non tanti no dai un minuto vabbè dai tre tre nove dieci, usa la curva rapida, usa la forza non va rapida ma non la uso faccio la giunta non la sto dai c'è cinquanto solte secondi dai ma cosa mi rompi le palle ho già finito 15 16 17 però l'ho ancora usata una volta ah però l'ho usata una volta l'hai visto? nooo stavo riuscendoci 40 secondi vabbè marian vince da solo bravo grazie ok andiamo avanti facciamo un altro così vediamo le animazioni perchè ancora non le abbiamo viste io sono un po' più in alto delle animazioni sono molto belle sembra divertente è anche più bello sono invece di her la santa scuolezionista di decorazioni dov'è l'altro? io ne so l'altro ah schifo l'altra è questa qui no? oh eee per me non mi possieda no sei sto andando no sei andato come si facevano ogni derappate? non così? con l'altro grigietto quel viso? ah no devi tenerelo schiacciato devi andare ti devi andare ti devi schiacciare ah ok ecco le quali derappate ragazzi sono molto bravo posso andare sempre dall'altro giusto allora aspetta mi derappo qua c'è una lingua che c'è in sé è totale è totale vabbè 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 qui? qui sto andando io Simo maia che può che bomba una vera bomba ok ora la faccio ok Simo maia 40 maia che cosa si dice? è tutta una barra del turbo quindi si riprendono è facile è facile è facile è facile della registrazione vero? scuola ma mi controlla se hai fatto della registrazione no no ti giuro non ho capito che cazzo ho fatto aspetta mi vedo soprattutto faccio sì esatto sì 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 per te scusarmi vai no giusto giusto fiori devi andare lì raccogli cinque educazioni di unichi ma sono i fiori sì sapi di te io no vienci bravo ti manca a salire bravo eeeh guarda che ripipina due fiori e dei fiori devi prendere Simo bravo intanto spacca tutti i giardini che può spazzo tutti bravo ce l'hai fatta guarda state qua guarda state qua state qua anzi prega forse devi andare da me Simo ma è la 40? sì sì ok dai lei qua bravo marian cioè no Simone vince ora vediamo se ci sono delle animazioni così vi facciamo anche vedere qualche video ma non sarebbe ma mi fai venire te a vomita ahah cioè il fio lo devo oltre oppure JACOB SEMO film se lo caffo ha 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 si arriva il momento dove tipo io devo fare questo per tutti i giochi ne lo voglio si deve armarsi si gira o controllare vabbè cosa volevi fare una video un video volevo vedere se ci fanno oh manta volevo questo video ah volevo vedere se c'è un video da stare così facciamo anche le animazioni va bene mi sta piacendo minchia no partita a golf no ma un video io voglio un video introduzione alle corse ah ecco così vediamo le corse perché finora è vero abbiamo giocato da soli cioè da soli nel senso vabbè me ne esco uscito vabbè sono uscito dai vabbè sei l'unica cosa non più visto non c'è davvero non l'ho visto però non l'hai visto beh ha sbagliato guarda lo do si si vuole parla Iago o parla si vuole parla il programma vedi e questo questo non è un video introduzione poi si 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 ma no deve andare a 170 quindi free ma c'è il branco è pazzo qui ma c'è una via normale permesso buongiorno si può uscire? no non si può uscire vediamo se c'è un video dai voglio vedere almeno un video vai vediamo i video ragazzi vediamo la prima gara volevo fare la costa merda ecco e questo beh bel video! lui è tipo il super mastro delle cose sono vicky velox e io sono vicky velox, ma non è comparto? e ci pagano per essere qui si sono lì! ti piene anche per il cuore, per questo fa 50 euro e si piene per il cuore c'è un bel video comunque, molte animazioni, ce le devo fare il conto ah ma sono quel McClank ma l'ho già fatto la storia che tu fai, ma no, non la so ma credo che la storia è questa non credo che la storia è questa sia, perché sia appunto questa scuderia di forza ma si Jacopo ma guarda che mi ricordo gli spara ero presi e le mattoncini che per questo bravo, ma che imparabile spara questo è bloccato, non so ti dargli moro eccola, va c'è, c'è, c'è c'è, c'è c'è spara spara, chiodi, spara, ucciditi mamma sagra devi vedermi quando istruisco la gente a giocare la calcetta oh, mi immagino spara? io sparo ma non mi pare? no, ma questa è fantasmino, non ti prende nessuno ma non mi sai perché metterà quella cosa stai dipendendo un rocco di valetissimo qualche posto minchia, sono ancora qua spara vai eh, vieni in terza l'ho preso si, però ma è ma è una scontata eh, sbagliato, scusami guarda anche il blocco basa, è bloccato ma non è seguita vai curvo salta curvo ma fammi prendere un puntino preso mi fa guarda sei bloccato usa l'energetica cosa curva ecco quel baldad ma non mettere la magna ma che sono primo curva, curva, curva ma non puoi vedere lo schermo del curva nooo quel cazzo vado vabbè, sono primo uè, uè curva dai, vai, vai, vai usa una curva una piccola e basta metta una minata ma non si fa lo schermo ah, mica, gli altri sono dietrissimi finito? eccolo vediamo se c'è un video dai, intanto si sega dentro guarda che bell'uomo che sono sono troppo bello si è visto che è bello ma anche un filo di bar c'è una foto a me stesso ma stai fermo cazzo l'ho già fatto ieri lo schermo eh, clash epplumination il bar un minuto e cinquantotto scusa, clash molto bravo va bene, cosa volete dire di più? volevo vedere qualche animazione ma in effetti, vediamo come si costruiscono esatto, bravo se qua, no, non si costruisce qua no, se è la gara ok, scusami, dove è il garage? ah, direi che è la gara ok, facciamo costruire una pecca grossa una pecca grossa che abbiamo visto finora la vedrai cosa cosa ho fatto schifo no, è la garage è una cosa fastidiosa ma forse non parla più la scimba io ci arrivo al garage ah, perchè spoiler sarà una scimba che ti parla in continuazione al garage però ti puoi arrivarci visto che c'è macchina di merda comunque, fermati ecco ok, adesso esce Jacopo costruisce tutte le attenzioni su di lui grazie no, mi sa che sei andato in un punto no, ho sbagliato scusa l'amica del pc non ti faccio... sì ok, fulmine possiamo passare alla fase successiva ah, di là, di là, scusa faccio lo sbagliato in sedimento eccolo qua guarda, sì, guarda Jacopo che bello il garage guarda che è molto bello fanno ecco, questo è il tuo nuovo migliore amico che ti romperai i coglioni ah, c'è la mia eh, ti piacerebbe fai crea fai crea di merda crea, crea più bravo scendi un fuoristrada, acqua o strada è il tipo il tipo di macchina, non hai capito? visto che si è trasformata telaio ma lo sa come si costruisce una macchina? pensavi fossi a finire sei una ricca ora ne metti uno a uno ah, si è staccato questo ok sono per un control mi metti uno a uno guarda che bordello puoi filmare con il bravo bello c'è 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 lo scritto se vedo voi e così no no lui ci sta cioè tanto hai capito? hai capito l'infame puoi girarla? puoi zoomare dall'avanti indietro dall'avanti no, non mi metto d'altezza vi faccio questo spoiler no, non puoi farla una torre? si la puoi fare ma poi dopo un po' ti dice che cazzo stai facendo? ma è una schifezza ma Jacopo devi compensare qualche cosa in questa creazione la skyline di cyberpunk dai ti diamo uno si ci fai un lumino che passa cosa fai le 12 menne? mi aspettavo che si impegnasse un po' è la prima volta che prendi mano sto gioco eh, io la seconda infatti hai visto che bella la terza si la terza no la seconda io la terza ecco come si fa una ruota? c'è scritto Jacopo con il letto dei cubitali con le frecce ma guarda veramente ci stai ti stai deludendo con la tua macchina sta di culo di cane si Jacopo puoi darci un po' più di creazione ci metto vuoi una musichetta? metto quella delle cinesi di prima poi poi si poi poi si poi poi si secondo te sta macchina com'è ce le rivola all'indietro poi devi mettere anche il sellino perchè sennò esce come la macchina mia che non c'è il posto per il culo vai 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 con RB ma scusa sto qua guida con l'attore davanti si è l'attore di controllo vai con RB e vai con sta cazzo di RB vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti vedi fondamentali c'è comunque il volante c'è la seduta quindi volendo se tu le fai rapido però c'è si dobbiamo fare anche cinque tornei due puoi anche cambiare i colori grigio grigio anni 70 cosa fai? guarda che non può sparare no ci metto una ruota di scorta no quello è il muso questo è il muso? questo l'avevo capito che era il muso ma allora vi voglio parlare di un libro no non sto dicendo cazzate vi voglio scusate ritorno un attimo su di me vi voglio parlare di un libro che si chiama la psicologia dei videogiochi no che cazzo lì che interessante in questo libro anzi me lo vai a prendita no vabbè devo scavalzare il conte vabbè non lo posso far vedere però avrei fatto top no è molto bello non mi ricordo aspetta vedi il libro? è in mezzo ai libri perfetto perfetto scusami cazzo no comunque è lì mentre la mia commessa va no vabbè no è simpatica come cosa è un libro che parla essenzialmente di libri? no non di libri di videogiochi la psicologia dei video è verde come sfondo come copertina quello lì e parla essenzialmente c'è una bella parte ecco facciamo inquadrare quello non avrà zoomato manco per il cazzo però noi ci proviamo posso? si si cazzo intanto si però volevo vedere l'autore volevo leggere l'autore è noto morto sui cibili è latino si chiama dammi sto cazzo sempre a presto ci servono le nuove a presentare un libro tre versi e luca argenton o argentonna non è più argentone vabbè ma in poche parole in alcuni c'è la condizione sociale la memoria no? come si gioca il modo in cui uno può lavorare uno cioè se tu spari in un modo psicologicamente ti dicono che sei in un modo se spari in un altro ma è bello perché ovviamente in alcuni RPG non RPG scusate in alcuni GDR no? ti crei il personaggio no? ti crei le tue fattezze la tua storia e questo libro di Stefano o era o è Stefano Triberti e Luca Argenton o è Stefano Triberti e Luca Argenton non può essere cioè se c'ha la 101 c'ha anche l'altro no no e ti dice psicologicamente tu che tipo di persona sei se costruisci le cose in un certo modo c'è uno psicologo che vede questa creazione di Jacopo ti dice che sei da curare ma davvero dice questo eh cioè nella creazione del personaggio Argenton e Triberti o Triberti ti dicono appunto che il modo in cui tu puoi creare il personaggio o queste cose teorie sul senso di presenza c'è scritto la creazione del personaggio l'ho letto due anni fa molto bello e quindi loro ti dicono guarda che se tu crei il tuo personaggio in modo magari in modo grande impettoluto una bestia magari perché nella vita sei un insicuro oppure tu crei un minchierrino smilzo senza coglioni però nella vita invece sei l'opposto vabbè ovvio questi sono due due concetti cioè due due spiegazioni veloci però è riassunto però non me lo spiegare cazzo non te lo sto spiegando te lo sto piegando te lo sto spiegando non te lo sto spiegando volevo uscire non me lo piegare cazzo è sbagliato no però nel senso sì perché ci metti uno radar guardami guardami si prego no però Jacopo ma Jacopo non devi durare tre ore vogliamo giocare anche comunque non abbiamo sì uno per la diretta perché poi 90 minuti abbiamo esatto ma è ovvio sei troppo alto ma è un po' più basso con l'elica ma riabbassalo senti eh come ti mettono un sforo secondo me una pagina 130 si spiegano perché metti i fiori insomma ai toni uuuh guarda l'ho beccato vai avanti noi spieghiamo le cose tu cosa stai una secondaria significativamente importante rappresentata dalla realtà organizzativa e dalle declinazioni informative che essa assai frequentemente assume uno dei primi serious game che sono stati sviluppati in questo ambito è dove nel mondo è Carmen San Diego uuuh proprio più lungo come noi e di atto le di anni 80 per formare i personaggi di una compagnia aerea scandinava e implementare la classe di servizio al cliente ma c'entrava questo o no? no non sembrava giusto ma ma lei è un stress questo è leggendo un po' di pratica per far capire come diciamo ma parliamo di Lego parliamo di altre cose non c'è da cacare ma non c'è da cacare ma non c'è da cacare ma non c'è da cacare guardate la Lego comunque anche io sono un estimatore guardate la Lego c'ho un bel modellino si scusami lo sapevi che è opposizione abbiamo qua un bel Joker è opposto a Serium in latino indica il divertimento lo scherzo e la verità e che risulta facilmente ricondicibile ti prego Iaco però non mi ha tutto il tempo cacchio 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 ebraiche utilizzate per esprimere il far festa la foglia metti il stellino davanti così la concludi si no comunque ora parti di scherzi sto leggendo giusto vabbè di sicuro è più concettuale la tua che la metti la rincontrata hai sbagliato non usa di qua si no lo so no è giusto così l'ha letto ah si è giusto metti il stellino l'hai fatta la filfina una campina poco chiusa eh c'è guarda un po' eh sto cercando ah comunque molto interessante questo te lo presto se vuoi Simo lo spieghi ai ragazzini magari quando giochi ai ragazzini vabbè tanto è eh su Amazon lo potete trovare facciamo anche pubblicità vabbè è finito scusa la mia amica sta spaccando ho capito ma io volevo anche niente roba rompia dai oh Jacopo ecco gli vetri oh la tua hai visto la tua ho fatto i vetri oh cazzo si cazzo oh madonna tu due eh ma tu veramente fareste una macchina sai cosa mi hai fatto già fatta sai cosa mi hai fatto no ci credo mi è venuto in mente che io da piccolo sei parlato il giro facevo questo gioco qua che era sicuramente il massimo per noi bambini perché praticamente prendevamo il trampano la base gigante cioè non la giocavate con lei si si sto parlando di gioco di dentro facevamo le due le due non so se si può sedere come le ruote non si può sedere non si può sedere ma bisogna mettere la seduta e il volante ok mettilo dietro la torta si è così vedo cazzo vabbè ti dicevo no vado avanti vabbè fai un po' come cazzo basta che crei cazzo allora mettiamo sedi stavo dicendo giocavi lego prendevamo le ruote facevamo quindi una base abbastanza larga fai tipo così la facevamo altissima robustissima tutta la forza possibile contro il muro e quella che resisteva di meno perdeva e doveva mettere a posto carino bello ma quanti pezzi avevate ah eccolo guarda si è creato quindi si ovviamente bello vedete comodo poi ci vedi attraverso il coso e come vediamo ma tu la fai tutta bianca ma tu la fai tutta bianca io spero che abbia una fisica allora per salvare di fare ti prego salva sta sconceria no ferma allora puoi verniciare no ma lascia la bianca allora beh di sicuro è più bella la tua macchina che la mia vabbè ci aveva poco dove l'hai preso il sellino jacob non l'ho messo il sellino non l'ho messo il sellino no lui è in piedi però c'è negli ah ok ah ecco tu hai messo il volante e lui si è creato per uscire ah basta mettere il volante scusa dammi un attimo scusami non ci credo no aspetta è in effetti però per uscire per uscire in effetti non c'è un uscire eh ah esce dal garage esci dal garage no fai salone aspetta fai nulla fai salone c'è la mia macchina la voglio cambiare salvare e tornare al salone salva bravo così mi modifico la mia macchina si eeeh un secondo devo mettere infatti ce l'ha ce l'ha no 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 rimettila un attimo ma guarda che andiamo guarda che non va andiamo perché non è la ruota è completamente smilanciata allora non capisco se è fatta apposta adesso è piegato apposta no allora no allora no vaffanculo non hai le ruote vedi anzi che sono piccole si quelle piccole vabbè proviamo sta macchina vabbè la guida Jacopo però giustamente ora ti abbiamo spiegato tutto dai no sei uscita con la mia perchè sei uscita con la mia la mia macchina normale da strada o strada no dovresti uscita con la mia ah di selezionarla come si fa che minchia ne so io non ho mai giocato è perché ma sono le basse del gioco cioè ritorni nel posto ricreila e devi ritornare lì sui ah come Forza Horizon come si crea eh Forza Horizon entravi nel garage e cambiavi la macchina qualunque cosa tu vedi dai zitto dai vai lì seleziona vai no equipaggio equipaggio si si vai ecco la qua ora Jacopo la tua ma al giro di prova vabbè tanto fai una prova minchia guida intanto sta merda oh ma dai che figa eh che figa c'è un po' di fisica sto gioco vuol dire che schiaccia B minchia che cazzo è questo allora bambino cazzo è brutta come manca cazzo cazzo la vera mia disegulina curva invidare ma certo non hai le ruote bello che non ti vedono 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 è imparazzante vabbè Yago ma il massimo è la prima macchina tutta a far di mezzo devo anche far di peggio vabbè dai lo giochiamo in due sennò raga non si esce più da sta roba assoluta è così invidabile mi sembrava che si ero il turbo girato è bellissima beh si raga però facciamo anche le eliche ma comunque veramente si invita di merda guarda se si invita però se tu metti le ruote non mica se guarda se salti fai prima volta fai più usci fai più usci no non la vuoi di te se mi si cagare senza macchina vado no vabbè non è guidare vai nella pista è facile la cosa del turbo ma sei entrato grazie prova a guidare la nazione normale no vabbè vabbè guarda ma siete voi che siete handicappati no aspetta per una gente in scena ce ne vuoi c'è devi iniziare ad andare male una volta che provi a recuperare no no si eh però mi fa piacere che hanno messo sta cosa di cosa? che è un minimo di fisica la segue cioè è una macchina inguidabile che si viveva dal progetto e quindi e quindi questo invece è una bella dimostrazione cioè se fai una macchina di merda va male un bel radar che si lucida un bel radar che si lucida ho fatto c'è l'auto solo di eliche se tu facessi i cazzi tu sono in fuori a mille chilometri ah vai dicevamo che adesso proviamo proviamo anche a fare proviamo a fare la gara in due ok? vediamo un po' io io Simone come siamo in gara due come siamo in gara due ma quella era mia eh ma tu fai tutto col tubo non è mia no che si eh gioca con tutti se è un altro mondo è diverso è un piccassolo chiama la nonna che è? che cazzo fai? che cazzo fai? che cazzo fai? come si fai in schermo condiviso? eh prendi le fobicità di due lo schermo vabbè si che si ha detto? se io clicco ma con l'eco se mi dai il tempo porca di quella puttana sai che dico? avvicino il questo così magari Simone parla un po' più meno però parla più alto già voglio dire opposto comunque salutiamo la coppia che so che ci segue si è affiliata no no io non uso sta merda usa quel coso beh allora la dinamofri dov'è quello schifo? tipo preferito io sono il mio tipo preferito no no ma c'è quello schifo costruito no vabbè meglio questa passetto lì vai no ok ma cosa stai facendo? ma perchè usi il tuo? ma che ne so io? ah eccolo lì ma chi? ma chi se ne frega della tua? è bellissimo sembra una batmobile da un lato no è bellissimo e mo? io voglio giocare con te eh seleziona eh seleziona tu? seleziona io? no seleziona la sega aspetta non sei andato nel giusto posto si ma su gioca con tutti così si ma ti sto chiamando no no ma che palle è giusto eh allora fermati no eh non iniziare a fare scusa noi abbiamo clicca gioca con tutti fai extra che ci dici? fai extra gioca con fermati no come hai detto che sei perché hai detto? perché lo diceva all'inizio che puoi giocare con la famiglia e se attacchi un controller puoi giocare con chi muore con tutti? con tutti? ma gioca con tutti? ah no che coglione eh stai zitto ah gara? eh ma che cazzo clicca non ho schiacciato start però eh cosa non hai fatto? eh devo farlo prima di schiacciare start eh perché se saltiamo i due fa velocissimo ahahah ahahah inserchi no ma questo sei tu o sono io? no sono io chi è? ma siamo tutte e due? ma siamo tutte e due ma siamo tutte e due ma siamo tutte e due a guidare? ma sì siamo tutte e due ma stranissimo siamo tutte e due cioè io guido la guida eh e tu spari bello scusa la curva rapida eh anche lì no ma scusami scusa sì no no non è vero no non è vero sì 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 è vero cioè io guido c'è lo stesso veicolo? sì che macello no ma 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 beh sì aspetta un attimo no ma ho capito non sto sbagliando eh perché lui capisce capisci eh collega controlla e attivare lo schiaccio no eccolo no aspetta sì amici vai su simone allora collega un secondo controllo per attivare lo schermo condiviso l'abbiamo collegato eh ma mi parli di no se no saresti lì ma io lo posso fare così io collegare lo collegare aspetta provo a spegnere il centro no mi fido letta ma prova a entrare nel tuo aspetta scusami ma una volta ma cosa sei fatto collegati tutti e due no prova io non mi ricordo più come si entrava come secondo giocatore ma si poteva però scusa eh è chiara sta cosa cioè qua sì vuoi spegnere e riaccendere davvero ma perché ma perché ma no ma vai su di te offline ma no ma non è lui che sta giocando adesso eh allora col suo profilo ma fai un attimo tu che devo fare vai su gioca in gara però però vedi bello il canyon no se faccio così è come se fossi anche te il primo giocatore è vero giusto ha ragione perché? e come si fa? eh perché? non lo so questo non è una roba che io posso capire finirebbe nella stessa motivazione ma non finirebbe nella stessa motivazione beh no 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 stupido no eh ho capito ora vai su gioca tu ma zica sono sincronizzati sono sincronizzati mi hai spento il mio? no non è possibile no tu tu va no non va un ca... ah no si eh ok va non sospendo il mio eh com'è possibile? aspetta un attimo così è possibilissimo eh si spaccato no però 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 se tu lo fai metti il tuo ma è già connesso si che sei collegato con lui no deve dirlo lui dopo 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 quando no lo deve dire io ho fatto anche con qui no deve dire quando è collegato con qui passo passi carta ma comunque salutiamo la H.O. che ci segue ma cosa vuol dire? o o o avere o stupore o eh o eh ora dovresti essere no come primo scusa hai provato a fare le BNB si ah accade questo scusami se invece scusami eh no scusi vabbè mi scusà quanti cazzo di amici non hai? eh no non ho tutti questi amici loro cazzo escono ah se lo trovo a spegnere il tuo? no ok allora spengo il mio ma perché devo spendere il mio? eh vai tu guarda eh ora prendere il potere ora prendere il potere ora prendere il potere visto non hai potere nella mia console il potere il potere guarda il potere permettimi una risata signor santi il mister il potere allora vabbè senti sai che ti dico ma vabbè ma vabbè ma vabbè ma vabbè ma vabbè non hai cambiato qualcosa è vero è vero aggiungi ospiti ah quello volevo fare oh oh continua comunque continua comunque continua comunque continua comunque intanto lui deve andare chi è? gioco insieme a me gioco insieme gara fai gara mannaggia gioco insieme a me stesso giochi con me è bellissimo fai questo non giochi tu si che gioco voglio vedere ma nel canyon c'è la bruzione alliella che cazzo di canyon è? ah il canyon allie no voglio vedere se giochi te insieme ma si infatti non capisco com'è lo scritto se non è tagliato e via tu sei sciogufo carino ma non è vero ah eccolo oddio vai si parte io chi sono? ma chi sono? chi sono io? la sinistra ovviamente non lo so boh no no ma ci chiamiamo tutti ho capito ora chi sei? aspetta no dove stiamo? cazzo sei andato? non sei andato a guardarti qua per una volta dai perché è più grande ma te sei ti aiuta? è proprio bello da piccolo perché è complicato boeing ma perché non c'è più audio in sto perché è disintegrato? è disintegrato lo faccio io? no eh per tu 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 ma io dovrei fare la radio con lui farci farci due giornali fargli un piccolo colloquio ma io c'ho anche le bombe e non le esplorgo certo che siamo ultimissimi tu sei più ultimo no no mica mi sei dietro al culo puttana beccati il flash ti è? affan culo bella guarda che te la fa no ma mi hai tolto la musica non ci capisco niente eh bastardone vieni suca bastardo suca no ma mi hai tolto la musica no non posso farlo che parlo no io voglio mettere ah bravo vabbè mi fermo no c'ho i comandi qua vabbè dopo la mettiamo dopo la musica ma la faccio io everybody fails grazie no che botta ma è meglio quando sta anzit forse si vabbè ora questa strada no ma non riesco a muo- uh! no boing una sega sono andato contro dai ma datemi un potere dai che ha niente questo da va- ma tu sei davanti su un terzo laga quanti giri? per cazzo sei andato? se ne vieni un falcon caput mi è volo ma è bella come l'ho presa bene cioè abbastanza crepasterò to su ca bastardo ciao no eh guarda che volo merda ho fatto un volo della madonna mi scassate il cazzo però chi è? eh muo ma non si capisco ma che dove sono finito? eccomi ero leggermente scomparso dal muro ma come si vince? cioè no si sei primo! no! no c'è sei fatto? si non lo so ma qui è una è una sei ma tu sei me stesso due volte? cazzo cazzo devo comprare un microfono perché dobbiamo sentire sto bizzare allora aspetta dov'è? no erai nell'altro bocco cazzo cazzo mi chiede la vibrazione trasformazione automatica vuol dire che ti puoi ti puoi trasformare da solo trasformazione automatica aspetta ascolta allora ora qua fai start e cazzo non hai le opzioni punto stazione vai su audio leggero eh minchia te l'ho abbassato ammazza beh facciamo così ma è il però principale no così 20 e 70 no sperando che si senta di meno di noi no è il mio catalogo non si sente nulla non si sente nulla come mai? vabbè non lo so hai fatto gioca con amici? no ho fatto gioca gioca ah ci siamo già ci siamo già gala farà coppa gala 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 san montana io e te la coppa? si coppa regione delle colline ma le sei già tutte? ma no fai copparelli 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 ah fanculo dai la faccio io che bello si vedrai adesso ci siamo ah iniziamo in acqua oddio minchia ma il volume c'è eh si è molto basso vabbè ti devi togliere dal cazzo comunque oh i cocchi i cocchi aspetta no ma non cazzo va mi anche te no no a me ma dai ma sei già oh oh fanculo mi hai incontrato cocazzo ma chi è questo qua che mi insegue? ah un concorrente un concorrente un concorrente ma mi sposo? se mi metto un ansia ma che macchina di merda c'ha? una bagnatera con le ruote c'è perso si si cioè non vale dare le spinte ad armi ma parli con me che non ma dove vai te ogni volta su marmi e noi cosa abbiamo? un frullatore eh no ah ammiglia promessa non faccio schifo al cazzo comunque sono ottimissimo è schifo guidare su sto cazzo di fiume è tutta in acqua dall'alto ma sono andato a acqua che merda ma c'è il cocodrino della lego ah è vero bello alla vostra destra un cocodrino no no raga ma come caccio schifo ragazzi no sparo magari becco qualcuno manco per il cazzo minchi hai visto? no ho saltato dai dai salta male salta male che ti inculo dai dai ma non puoi sbagliare la strada inghia non puoi sbagliare la strada no questo qua mi incappetta oh mi incappetta no ma cazzo vado ma dai ma faccio troppo schifo ma c'hanno delle macchine che comunque mi danno un'ansia stilutoni guarda qua ti bambini un frigorifero con le ruote la macchina la seconda macchina di Jacopo quando ha fame ed è di corsa vabbè chi vince con Jacopo eh c'è chi perde no ah quindi ho già iniziato a perdere si merda ci saranno almeno 3 4 carri ma che cazzo no ma che sto facendo ma adesso quinto dai 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 non sono messo malissimo dai 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 becco qua no non becco ah ti ho beccato eccoci lì bastardo ti vedo ti vedo finalmente ho capito dove sei mi sono scusa rapido preso? no non ho preso te ma ora ti incuro guarda yeah guarda che passaggio in mercoledì ci fa fatto guarda ho visto solo la ricca del segno ma dai era il più grande è il più grande no dai ti avuto passato troppo bene no sei andato sul coccodrillo ho capito se non ci fosse stato il coccodrillo avrei vinto se mia nonna avesse avuto le ruote prima prima era la pariola ho capito ma ci stavo battendo va bene ok va bene pronto per la seconda gara? si dai intanto oddio questo è troppo bello però oh cazzo eh che minchia di coppa hai scelto quella ragnofa coppa coppa fanno ridere così non capisci un cazzo ma sei davanti giusto perché sei primo ma io ho la macchina più scrausa comunque non è male che vinci guarda che guarda che peretta di macchina ragazzo dai morite tutti mica che casino ma io cosa c'ho? ma cosa mi è venuta André? ma cosa mi è venuta? ma vedi che mi mette ansia sto co? ma dai ma pre ma sei giusto primo si no no nel senso guarda che ma dai ma sei bastardo ma come si fa? ma non sono ultimo cioè no si è abbastanza eh di dole dai 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 son terzo son quarto son terzo son quarto un casino dai vai veloce dai che c'ho Iacob Vittor lui eh vabbè ragazzi metti Iacob il nome più comune del mondo Simone eh sì ma Matteo non ti incula nessuno comunque cioè hanno tutti con me ah davvero non riesco a fare niente e vai 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 Italia eh taglio peggio di un rasoio eh eh chi? vai vai ma riesco a passare dai su cazzo ma io non prendo mai una magia ecco perché faccio schifo prendo mai una magia vabbè nel senso una protezione un preservativo è la magia che lo fa eh posso citare non è che sei soltanto secondo no ma son primo no no sei sol sei ancora secondo cioè no si è qualcosa insomma ma era la la macchina ragno era eh vedi che ti mettono inquietudine sei secondo ma di porca eh crepa oh qualcuno lo devo beccare te becca a te ma che poteri ciocca ma merda sono sostanzi schifosi ma dai ma dai ma da quarta ultimo cioè la terza a seconda eh ah nel senso che svalutamente frenetico che poi faccio schifo però no dai oh ma ci beccherò eh dai 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 eccoci sei sempre primo ma com'è possibile ma l'hai truccato sto dopo cazzo minchia ah ma sei lì davanti no non finito ma non è possibile ma appena ci sto raggiungendo vabbè vai affanculo appena ti sto raggiungendo dai dai otto e manuel è arrivato terzo chi? si e manuel oppe manuel cosa fai? io gli armi gli cibi ma lì che basta sui manchini no pronto? ma sono ancora quella macchina di mea scusate per l'audio che non si sente niente tutto non perso fai a lei che son già primo no è una macchina che va lenta raga non è possibile ma dai ma tutti con me c'è una Simone ma tu ce l'hai solo con me siamo in 50 non ho sparato una volta ho sparato adesso ho preso bastardo ah mi ha preso meno ho preso meno papà che colpo mi hai dato l'ha finita a tua ultima porco dia eeeh tutti i cattoli non è che hai sbagliato strada meno male un po' di culo via cheat point dai presa presa cheat point no ma dai ma se sbagli strada muori eh lo vedi come muoio no nel senso che arrivi e ritorni e poi vabbè dai ma dai mi ha preso una macchina più di merda che ci possa essere ma neanche la carriola di mia nonna potevi prendere la macchina di acqua merda sono esplod... dai dove va no ma tu come fai ad essere sempre terzo cazzo tu qua eccoti 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 ti vedo 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 finalmente ho capito dove sei tu non mi vedrai mai il culo perché non... uh eccoti ti vedo prendo una bomba e ti ammazzo si però se non lo allento ma fattivi dai ce lo si mu... no ma che botte mi hai dato vatti i cazzi tuoi eccoti eccoti ce l'ho ce l'ho pieni infognati subito su che merda arrivederci ma adesso è sempre quattro che cazzo è andato sulla montagna no non vinculare oppure aspetta passa passa vai vai che c'ho la bomba eccoti ciao merda croccoti ma tutti a me ma scusate la vista ma che cazzo ce la paghiamo tanta disintegrazione unica ma perché c'è sempre sto frigorifero con le roba ma si non frigorifero no se non c'è un frigorifero con le roba ma dai ma dove sono andato no a me è ingiocabile no guarda che comunque è un po' ingiocabile il split screen è molto difficile si non è facile e stagare effettivamente è difficilissimo scusami certo e sarà anche difficile ma tu sei comunque davanti ti vedo ti vedo ti vedo non puoi vincere anche questa e invece mi sa che succede proprio quella mazzola azzurra dai 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 eccolo a papà ti è ma che manco ti ho preso ti ho preso neanche ma vedi che la mia macchina valentissima no no raga c'è un problema di fondo quella macchina valentissima ma va porco cazzo lenta va valentissima raga aspetta aspetta no no non puoi uscire dal mondo no non puoi finire là non puoi vincere ok non hai ancora vinto no non diventare uno boa no ma perché sono gli alieni ma fatevi i cazzi ma cosa al secondo ma è ma che sei un po' però oddio è sempre peggio cavalli e te minchia ora si interrompe su ciubbello si va ma che fatti si va mi viene ma che fatti 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 eh e ce l'hai qui fai come dobbiamo fare i microchi no ma devo comprare un microchi ma cazzo fai il più veloce no davvero o parlo così se ce l'ho come sei fetti fetti guarda che sono già primo eh primo su quattro partite e e corporante ti esplodo si si prova a esplodermi guarda yeh sono diventato Ubota e ora sono Superman yeh yeh guarda che merda ma come sono settimo ma da quale cazzo di cazzo di cazzo è uscito lui mi trovo cinque se sei in gara è difficile essere settimo ma da dove cazzo ma ero primo o un secondo prima eh sei andato ero primo o un secondo tutti hanno preso una strada e ora ne cazzo fa un culo che c'è madonna e vaffanculo devo pure pulirmi hai preso la mia ragnaterla ma vaffanculo per rompi le palle anche in ma che casino è vabbè voglio sparare un culo vaffanculo sparare un culo cosa è successo? dovrà succedere qualcosa anche a te Simone eh eh cazzo è un luto è una cosa normale no perché non sai cos'è? non so dai che cazzo dai 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 che cazzo è? che cazzo no che cazzo vedi 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 dai 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 che forse vinco forse oh no intanto se spado qualcuno oh vai secondo terzo vai speriamo di prendere minchia di personaggio dai 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 ciao raga primo sì ma sbaglio stata sei un coglione sbaglio stata sei un coglione no no perché freno altro cazzo no non mi provare guarda intanto prima che becchi me questa volta cioè no me passerà e vai sbaglio tutto dai 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 quando finisce sta cazzo di gara mai no non mi provare no non mi... ti vedo che mi inculi non provare a inculare sono qua ti vedo nello split screen io sparo un missile intanto belli brani ma è finita siiii e tu guarda non lo so se ti fanno vediamo quante le hai vinte tu? zero questo è il... non sono manco ho vinto io sono secondo bello tu cosa sei dai vai con Jacopo dai dai vai fate una pausa mi fai venire ti dico ora no 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 beh allora basta non è che dobbiamo... basta come dice? no no basta per lui aspetta no ma fai te no ti prego fai te facciamo due e due eh prima te che hai vinto il perdente di voi due col perdente di uscente giusto quindi adesso inquadriamo i loro due quale... quale... no vabbè lascia così ci sta tanto lui guarda di là quale... fate una coppa normale raga non so per esagerare scendere valle e pepita questa... tassi in cinque eh... non so manco i tassi vabbè adesso lo impari eh beh vabbè voi una cosa intelligente siamo iniziati dalla più strozza non muoio allora no c'hai ragione aspetta un attimo ma c'ha ragione qua ha detto un cazzo vai mi ha detto i tasti ok attenzione vediamo beh lo riprendi parte bene ma cazzo io sono di là una macchinina di merda eh benvenuto eh vedi perché perdevo secondo me ma c'è già gli alieni ma si ma che cagnara ma una cagnara una mitagliatrice no ma una cagnara sta male cioè guarda sai comunque non siamo più abituati allo split screamer ragazzi eh si ah si eh si bravo cioè io non sono più abituato poi io si sei talmente abituato che vai a destra e a sinistra vuoi che si fanno della parte eh appunto non ti abbiamo detto i tasti ops cioè mica sto comitore era uscito ma però è bello che lo puoi spostare mica che disinterazione si se vedete se vedete Jacopo che guarda di là non è un coglione è perché di là è più grande lo schermo qua ce l'ho troppo angolato eh si ha fatto benissimo che ti ha tirato guarda che volo grande maiavo ti ha recuperato brutto merdoso così a cazzo guarda che se ne perdo due poi devi vincere tu due eh porca puttana è vero per vincere il premio finale guarda l'iperspazio ma ti come ci fai a finire è tutto tra l'altro vedi minchia velocissimo quando sei ultimo ah si eh si è per bilanciare ti da l'iperspazio ma non è vero si è come il missilone di Mario Kart raga dai Jacopo fagli un po' il culo cerca di arrivare il primo spara le bombe che non hai porco bravo dai Jacopo c'è Maria non te roli uno e Maria non te roli due sono alla fine sono quasi snervati ma ce la fanno nel momento in cui ce la possono fare scusami vedo Jacopo Jacopo che ce la fa al secondo posto Simone Spigno è al quarto però fra una cavalletta e l'altra riesce a tenere di testa attento ai gommitoli di lana bene bravo così bel casino grande Jacopo Jacopo tiene testa deve soltanto sparare una bomba eh ma è perché ho perso Jacopo deve tenere testa soltanto al gelato al gelato San Montana lì davanti ma poi ce la facciamo se fa se fa il mondo bravo bella sta bravissimo primo posto per Jacopo Vecchio bene senza sapere i tasti senza sapere i tasti ah guardali quanta roba prende prende un Fartasmino che diventa invisibile così non può essere colpita la spione è più usa la curva rapida no non la usa che poi ti porta sfiga tanto il demone di Simone Aleccia ahahahahah ti va a sentire la forza strana che quando crepi scusa 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 in questa curva rapida servo preparati eh scusa trovermines oh my god ecco l'unica cosa che non ho visto anche se è un demo e ci sta però in realtà mi sembra che è un demo a tempo quindi non è un demo ti faccio fare due o tre cose beh manca ancora 20 minuti però è un demo a tempo cioè il gioco è completo ma è a tempo sì 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 non capisco se puoi sbloccare le macchine veramente te lo devi fare tutte te di continuo eh credo che sia un forza Horizon guardate che ci siano i milioni eh vai 3 2 1 via no non farei Wii che lo dice solo lui se facciamo lui ecco fra Wii e Whoop Wii è casino obiettivo grazie raga un obiettivo nella demo come un canguro hai fatto Wii salta a 100 grazie per l'unico obiettivo della demo che ci sarà nella storia grazie raga abbiamo fatto un obiettivo grazie a me sì in effetti comunque grazie a te che sei quarto eh tu Jacopo dai che ce la puoi fare arrivano gli alieni di Marzetta X fusa la curva no e quelli dicono quello solo quello lo so dai Jacopo di ah se sei fantasma puoi passare anche in mezzo agli altri merda ho sparato a vuoto sei settimo sei passato anche in mezzo a 50 persone sei fuori ma oggi hai distrutto qualcosa cioè sta derappata che non è troppo così convincente e poi non è che ti aiuta a creare qualcosa credo cioè non ti da un bonus non ho ben capito cioè vedi che carica una roba su eh quello che vedi un altro ed era fatto il centro volo quello sotto il centro sì ed era fatto il 5.000 metri ora il prossimo sarà premuto il tasto X bravo è schiacciato via dai Jacopo dai tinilo 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 no Jacopo non parla da 5 ore ma si vede perché i professionisti non parlano e lui anche se non è professionista non parla esatto sì sì un mutismo totale selettivo tiro sì se non hai servito a un cazzo ti prego appena diventi visibile ti ammazzano perché quello è la tua conclusione bravo Jacopo dai ultimo giro ma dove ah è quello lì vedo ora il giro dai Jacopo non è ancora concluso il terzo giro lo puoi stare fuori vediamo che spigno spigno la vedo male signori per il nostro non c'è un aereo lì no non è un aereo eh no no quello è fuori attenzione un altro obiettino no che è hai colpito ferita hai colpito missili a ricerca sempre grazie a me colpiti l'avversario con i missili quelle 15 volte Simone grazie cazzo ha un 8 questo sì ma va affanculo lo capita adesso beh meglio ma tardi che mai Jacopo è arrivato prima di tanto tempo ti prego ti prego quinto quinto ti prego ti prego arriva quinto guarda che cura guarda cosa tocca a te no eh sì fai due gare io no no tu le concludi tutte c'è anche una sì c'è anche una c'è anche quattro quattro per coppa come tutti i giochi di kart rampagni rampagni che cosa fai cioè perché c'è una sega piano bravo hai sbloccato il telefonino bene le cascate bello ma le sarei aspettato di lego però beh perché sono lì cosciolti non dice mai un cazzo ma quando dice è meglio che non dice niente questo è Jacopo va bene dai terzo Jacopo è il capo prodigio di questo campionato perché è già due volte primo che cazzo è successo invece sentiamo le lamentere di spigno in fondo alla radura che cazzo è successo becchio una pulva Simone si è bloccato ma brah tutto fatta n***a che casino è hanno usato la pulva rapida ma ragazzi è troppo un bordello in split screen split screen ma tu stai capendo io non sto capendo un cazzo no no stavo parlando con Jacopo seriamente stai capendo l'utilizzo della rapata lui che farà? nemmeno spiegalo se te lo chiedi ma m***a non lo uso quasi ma giusto per aiutare un po' la curva si però lo vedete che in fondo vi si crea sto cosetto no ma lo vedi quello quello è il tuo cioè guarda quello tanto me la devo fare con Jacopo che è un fenomeno pur non avendogli dati i tasti si è bravo ma Jacopo nei giochi di corsa è bravo o che spari o che non fai altre cose è bravo e Simone che va un po' a brandelli dove cazzo va? non c'ha abitato a guardare di là e spostati ma sposta lui sposta lo schermo si dovevate prendere la il controller diverso tanto di esplode qualcosa bravo eh Spigno eh? molto bravo ma cosa succede? cosa succede? ma siete nella stessa manfa? ma no l'ho mancato ah no l'ho preso no no l'hai preso l'hai preso dai bravo Jacopo dai guarda lì com'è il primo vede il primo vede il primo vede il primo vola sul primo però prende un tronco anche in pieno che non c'è scarsa ma non c'è scarsa ma cazzo non lo sta e sta zitto! Simone è inguardabile in questa gara però ha vinto prima quindi me ne devo stare proprio zitto guardalo come salta i tronchi come un castoro come i tronchi di patata cos'è sta roba? cos'è? si chiama percorso devi seguire una delle vie cioè gli alieni che ti rallentano è merda d'alieno non ho capito cosa c'è quella roba lì Jacopo è primissimo e credo che abbia finito tra pochi secondi la gara Spigno è sempre quarto mentre Simone settimo prima ma Jacopo è sempre primo tenuto in genitoso quarto posto in tutte le gare bravo hai visto che oh oh la violenza sui no la chiavetta magica no la chiavetta magica è magica la devo trovare se la avevo in mano prima allora ce l'ho qua no raga la devo trovare la troviamo la chiavetta magica eccola qua la trovata dai cristo can va bene la taglia con tutte le bestemmie che dice quello lì che è andato da Fedez cioè è andato uno è andato quello lì che bestemmia da Fedez non ci possa andare io eh? il Maseo? il Maseo è andato da Fedez ma lui stai parlando? sì salutiamo il Maseo Maseo che bestemmia di più del Colosseo bella questa bella bella è una affanculo minchia pure è notturna questa sì ne do dei colpetti per usare tu io il Derapatino cioè cioè non faccio la derapatano secca lo uso per aggiustare un po' la curva ti insegna capisci Simone fai cagare comunque avevi detto ho giocato per miliardi di anni perché vuoi dire che lui non ci ha mai giocato faccio un culo effettivamente c'è una disparità e mi piace sul tipo di macchina cioè se tu hai una macchina di merda si vede allora vedi perché perdiamo quantomeno per le curve secondo me se Jacopo deve usare questa qua perché tutti proviamo tutto secondo me capirà quello che stiamo dicendo può darsi che qualcosa cambia non è può darsi non è può darsi si spera si spera che non sia tutto guai ma non è può darsi così in effetti quel cesso che ho costruito è vero potevi giocare con quello eh non abbiamo pensato a fare selezionare la macchina ma va bene così è vero che potremmo giocare con le nostre scrauset ma toccala tu ne costruisco un'altra no no guarda per carità ci hai messo un'ora no 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 bravo Isimo l'hai presa proprio in pieno ma chi ho c'è Simo? Jacopo? no vabbè anche Jacopo oh attenzione potrebbe esserci la gara per il quinto o quarto posto sì vabbè forse beh sì certo è stupido ma che cazzo è sei andato all'interno erano eh no erano all'incontrario le frecce andavi più lento mi sembra di aver visto frecce all'incontrario no io non capivo cos'è sta ma... cos'è sto paracarro di merda in mezzo ai coglioni è un giocatore che si chiama no ho impurato il grandissimo Sallo Stallone si chiama questo minchia i nomi dei cazzo sono sempre per Sallo Stallone guarda guarda ha tagliato il zaguardo vediamo dopo i nomi leggiamo i nomi dei protagonisti di queste gare chi è? bello cosa serve? la vediamo da andare ma Simone ma capisci la strada? c'è Rusty Papita vabbè Rusty Pepita cos'è un negozio? sì è un negozio di stronzi tu praticamente vai a cagare ti danno una percentuale su quelli che poi vanno a comprare ma stai scherzando? ci vado domani di area raga no a stronzi ho detto no merda liquida ma tu hai finito? sì mi sei una merda liquida quindi madonna vediamo i nomi dei giocatori inizio 2 Sallo e lo Stallone raga lo Stallone Erty Boomerang laumina Fallosius no Fallosius Max Spind Fallosius no raga Falea Tattino scusate ma si ti vuoi meglio ora usate usate la gramma te cazzo ti hai fatto una coppa Renny usate la gramma cazzo no perché pesa poco guarda che macchina di merda ti abbiamo la guidabile non è pure questa qua fatta oh i dinosauri oh la ciambella al dinosaurio la ciambella al dinosaurio ti dà merda con quella compra il gioco lo installi e lo disinstallo si e poi lo riporto al negozio no no lo prendi digitale bella grazie io ora sono di là c'ho la macchina figa si già freno no raga qua c'è faccio a cagare se fai cagare fai cagare ma no raga non riesco a giocare in split screen vabbè mi metta a guardarli qua scusa vabbè fai prima scusa cazzo tu me meglia ma perché si però faccio cagare no guarda che volo grazie ma sono sempre sesto perché fai veramente tizio 3 c'è scritto prima c'era tizio 2 questa è la terza gara ah giù no non vengo mai la magia ecco bravo ciao ciao è inculato marian 22 09 87 ciao vai 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 turbo turbo minchia minchia porta taglia ste pulbe vai 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 bomba bomba turbo turbo subito turbo vai salta 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 non ti può andare salta salta ma io sto sbagliando tasto che cosa vuol dire non sto giocando bene non ci provare manco masseo bello bello vedi come l'ho schivata ma l'hai sparata tu no eh eh sì eh sì eh sì forse dai Jacopo ma va a far quello cosa succedeva mi hanno fatto sbattere spara certo che spara bravo l'ho preso meno male ho dato un sacco di avanti mi fila no 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 schiacci ma lo devi schiacciare male devi schiacciare più volte bravo ok hai vinto un matton dollaro vai hai visto sei quarto porco cazzo porco cazzo una macchina di merda porco cazzo no ok ma non prenderti male se puoi cagare vai scopo ho preso la maglia sì però ma aspetta ma se ne sono un coglione eh sì ma non si ho niente da dire finisce no è finita no la macchina di merda ha vinto ho fatto ho fatto ho fatto quattro volte ho fatto quattro volte osso duro eh osso duro fafacu coca cola pepsicola osso duro aracmorella fiero osso duro e le basso la maunstus matton o matton 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 anche se hai due con gli accenti con gli pari perfetto no la scuola sì spalla anche a me no vabbè mi ho detto spalla oddio ma sto qua quello cassino vabbè a sto punto sì sì certo la cameriera la sguaccia vabbè lo chiesa un po' è un bastardo che cattiveria oh lo è sto cattolo pop è con la light che si fa perché 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 urli in sera vabbè ma per se far sentire meglio il programma micchia ma quel cazzo di macchinetto va a fare un altro obiettivo vara separatore di mattoncini no del cazzo bravo vai vai ma cazzo sto coso vai bomba vai ma non prendo magie certo ma il tuo cazzo che bocca che bocca ho preso ma ragazzi spara no non spara io ho un obiettivo non voi qual è l'obiettivo? Jacopo che secondo che è qua possiamo lanciare il ragno sulla macchina ragno ma laga faccio che sei davanti a me sto cagnata la merda che volo no quando Oscar sono come un merda spara preso bravo spara spara tra le trince spara ma eccola quella che usava Simo bellissima eh si però averne preso una lei ha preso Jacopo si no 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 vabbè ragazzi allora giudizi su questa beh devi farcela concludere non ci arriva ragazzi vabbè vabbè tipo finito il torneo non giochi vabbè vabbè ecco lasciamo ok c'è un po' scaduto continuo grazie ma ti fai cagare ti salvo dalla piazza di me grazie se puoi fare una donazione per la nostra gentilezza vabbè raga giudizi io faccio cagare giudizi su di noi o giudizi su di noi no giudizi sul gioco beh se volete giudicarvi Jacopo come ti sembra? è un gioco che pale tu devi fare un programma con lui ti prego naturalmente così rischiamo la morte vabbè raga soccorso sei tu mi ti dia male affanculo pure te però dai anche io sono attestato il primo soccorso quindi fatti soccorri da soli esatto cioè che senso giudizi c'è ancora un po' di prova da fare a casa grazie a Dio ah lui c'è ancora no vabbè c'è allo stesso tempo però l'abbiamo consumato il tuo e secondo me è un gran gioco cioè è molto divertente è molto personalizzabile l'unica cosa era appunto la questione delle macchine da scegliere nel senso che non capisco se c'è un parco macchine già certo c'è un porco macchine scherzo vabbè è molto divertente non mi ricordo quando mi erano un po' di ricordo ma no vi prego no vedere quanto costa che cosa questo cazzo ma perché devi far così ah comunque mi ricordo l'incorso tra The Crew e Mario Kart ah porca puttana vabbè aspetta aspetta missione base scusa cosa c'è nel concento è vabbè vabbè c'è l'acqua dritta dei spark vabbè sono i prezzi di adesso ti regalano anche il pollo wow non lo so cioè se effettivamente c'è un botto di roba c'è un botto vabbè dai assolutamente una se c'è un botto di roba di sicuro c'è un botto scusa tu va per fare un schifo bersaglione ti può cagare perché raga io non mi so giocare eh sì ciao ma perché devi far vedere la camera mia vabbè scusa stai incontrando comunque raga io voglio dire che questo a proposito di Lego non c'entra un cazzo ma raga ma questa è quella quella del cartone ma quella vecchia che ha quella del cartone sì sì che apri il culo scusate non c'entra niente con la Lego ma una gomitata no devi togliere prima il tettuccio e poi e niente e poi ci fai la più più dentro non so che puoi spingere indietro eh bravo è proprio una scarconata e quindi eh ma lo stai rompendo sì vabbè niente usciva anche l'aliante comunque però in questa modalità non esce un cazzo è comunque bella no? sì sento un cazzo forse puoi riprodurla puoi crearla tu eh minchia naga provate a voi se hai un blocco nero tu tu ti ti c'è cazzata ma cazzata ti metti un vetro qua ragazzi ma c'è se ti sei impallato sì la voglio far uscire la spacchi e i spacchi siamo noi due comunque Jacopo vedi perché devi starci meno a costruire la macchina ecco qua vedi ecco qua 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 guarda vedi ecco qua per cazzo bello sì ci manca su batman ma l'hai comprata sui bene no ce lo do una ce lo do 7 mesi ma questo ci metti l'enigmista ci manca batman ma poi di male l'avevo visto prima che cazzo vabbè vabbè ce l'ho batman eccolo qua dammi batman stupido io mi fido pure capisci comunque non lo so dov'è vabbè niente da qualche parte è molto divertente questo gioco sì avete visto che mi hanno visto come dei polli per tre ore quindi vi posso assicurare che il divertimento è assicurato Jacopo si è beccato dei bug e tu non è una chiacchierata è assorbita capisci abbiamo toccato a cyberpunk basta no non proviamo non usate provare a farlo fare la parola contro quel gioco niente no niente e niente quindi recensioni abbiamo visto un po' la modalità storica abbiamo visto un po' la modalità due cioè con gli amici è un è un free doming nel senso che appunto e puoi girare con la macchina tipo forza horizon o forza motorsport o cose così non puoi uscire dalla macchina peccato che non puoi camminare sono pazzate mi ma sì dico esatto no dico peccato che magari avrebbero anche uscire con la macchina per l'omino non abbiamo visto non abbiamo visto se tu fai una macchina senza omino non ti puoi lamentare io le sono cazzini e abbiamo visto le edizioni ci sono quelle da 100 euro quelle da 60 euro ora prezzi sono questi però quindi quindi è una demora che abbiamo giocato 80 minuti abbiamo giocato ci abbiamo fatto capire che abbiamo un'ora e mezza che facciamo la diretta perché mi mancava un'ora e mezza di gioco volevo fare vedere magari meglio le animazioni della storia però niente di chi sembra di vedere no niente dico una sega nel senso che sembra di vedere un film della Lego quello sì la grafica non so su questo io magari non è che ci do tanto l'occhio però mi sembra buona sembra un film no no a me sembrava un film Lego le animazioni all'inizio sì no anche il gioco dico sì reggeva bene anche tutto sto delirio sì non ha mai crashato non ha mai fatto problemi quindi quindi vabbè come voto demo se questo è il gioco in sé è buono se ce n'è di più meglio perché violenza perché abbiamo bestemmiato noi ci mettono quello può regare violenza alle persone tra l'altro Peggy7 Acquistingame vabbè ok sotto i sette anni meglio non farli fare violenza cioè violenza allora minchia metti un Peggy25 questa è la violenza che è violento appena cade per steg vabbè niente bella raga grazie di essere stati con noi monterò la punta bla 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 devo comprare un microfono quindi convincetemi a comprare un microfono sì qua abbiamo la pubblicità questo qua non sa tenere una roba in mano comunque non è Batman io c'ho il capo falso vabbè 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 non è la mia ricerca di Batman che comunque è mezzo a sto porcaio Batman trutututum vi salutiamo poi semmai un giorno Simone ci invitasse a casa sua per provare da lui delle cose no ok non ci invita proprio non ho la stanza di Metal Gaming non ho tu l'hai scherzo così tu l'hai lei no e come non è la stanza di Metal Gaming scherzando non lo so vediamo non ci vuole invitare non ci vuole invitare non ci vuole invitare questo è il mio canale se lo leggete lesi YouTube lesi gamer YouTube non so neanche il mio canale ho sbagliato le parole io sono io ciao ragazzi da me bella da Jacopo e da Simone sì però potevamo concludere la senza tutto il programma dietro comunque questo è il programma di OBS spero che abbiate capito vabbè abbiamo capito di OBS non di OBS ciao ciao